Natale 2012 Paesaggi, vedute, particolari, immagini sacre costituiscono le rappresentazioni a cui Montefusco si dedica maggiormente. Ascoltiamo ora proprio l'artista montecorvinese. Questa è nata casualmente, vorrei crescere in questo campo. Sono in programma altre iniziative? Sì, in programma a Giffoni, poi non so, vorrei andare altrove anche. L'ho mandato anche in America, l'ho fatto per hobby. L'ho iniziato e le regalavo. E poi è nata questa cosa per fare le mostre. Grazie a tutti.